Un direttore di banca che si intasca a parte dei versamenti del suo cliente è un usuraio che pretende tassi di interesse estremi al debitore, il quale è inconsapevole che il denaro che gli è stato prestato è stato in realtà sottratto dal suo conto corrente. La combutta tra i due furbetti è stata il calvario per anni di Antonio Rosignoli, un imprenditore che gestiva l'attività di un supermercato. Nonostante l'impresa fosse fruttuosa, il patrimonio di Rosignoli diventava via via più sgonfio, fino alla decisione di vendere l'attività. E questo perché l'allora direttore di una filiale di Silvi sottraeva parte dei versamenti alla banca. Intanto Rosignoli, ormai con l'acqua alla gola e dovendo pagare i fornitori e dipendenti, chiede un prestito, convinto di poterlo ripagare una volta venduta l'attività. Il creditore è presentato a Rosignoli dallo stesso direttore, in cui l'imprenditore riponeva la sua fiducia. Si tratta di Luca Di Matteo, figlio dell'ex assessore regionale Donato Di Matteo e già condannato per l'incennio doloso del Florida Park di Pescara. Di Matteo presta a Rosignoli 37 mila euro, ma poi pretende che li vengano restituiti con un tasso di interesse del 10%, spiegando che i soldi li aveva riperiti da loschi individui napoletani che chiedevano indietro il denaro. Addirittura Di Matteo acquisisce il supermercato, sottraendolo all'imprenditore ormai sull'astrico. Poi Rosignoli scopre la beffa, anche quei 37 mila euro erano stati sottratti dal suo conto corrente. Ho scoperto che questo non era un prestito, tra virgolette, ma era denaro mio, per cui penso di essere stato l'unico caso, se non in Italia, ma anche addirittura oltre, di auto-usura, alla mia insaputa naturalmente. Ad oggi il direttore è accusato di truffa e appropriazione in debita, mentre Di Matteo dovrà rispondere del reato di usura. Com'è cambiata la sua vita? La vita è cambiata, che oggi vivo con una pensione di invalidità, purtroppo, con i problemi che mentre sia la banca, sia gli altri, sia le tasse che vogliono, ma io realmente sono il frutto di un risultato di truffa e di usura. La denuncia di Rosignoli scoperchia il vaso di Pandora della legislazione a proposito dell'usura, che non permetterebbe alle vittime di reinserirsi nell'economia legale, finendo così per doversi rivolgere ad altri usurai per poter pagare le tasse. Alle istituzioni che sono corre, secondo me, non ho paura di dirlo, di questo sistema perverso, di questo sistema insufficiente al fine di applicare proprio la normativa. Da qui l'idea di costituirsi associazione, per non lasciare sole le vittime di usura. E quindi questa associazione è fatta proprio da tutti coloro i quali che possono dare un contributo agli altri, è un esempio per coinvolgere tutti, tutti coloro i quali attraversano questo momento negativo, al fine principio di andare a modificare attraverso anche una petizione dei sit-in che faremo davanti a Montecitorio, la Camera dei Diputati, del Senato, al fine di avere una pressione per andare a modificare con dei disegni di legge, delle proposte di legge, la normativa tuttora vigente ed insufficiente.